17,7 famiglie su mille in Abruzzo subiscono un furto in abitazione. La regione così si colloca all'ottavo posto della graduatoria nazionale. E' il dato che emerge dallo studio condotto dalla Confartigianato Abruzzo sui primi risultati dell'indagine ANAP-ANCOS, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati e Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, su un campione di over 60 rispetto all'esposizione degli anziani alle truffe. In crescita anche la percezione di insicurezza. Infatti il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui vive, percentuale in aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana del 41%, la percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%. Come nel resto del paese, anche a livello regionale, più è grande la città di riferimento, più cresce la percezione del rischio. Insicurezza che aumenta in modo proporzionale anche rispetto all'età degli intervistati. Vale a dire che più si è anziani, più si teme di essere vittima di furti, truffe e raggiri. In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori, commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco, la dicono lunga sulla percezione ed insicurezza dei cittadini e soprattutto degli anziani in Abruzzo. Da anni l'ANAP regionale è impegnata sul fronte della sensibilizzazione continua di Tecco, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa che anche nella nostra regione si svolgono ogni anno.